Secondo le previsioni più pessimistiche, il periodo tra ottobre e novembre, solitamente segnato dalle piogge, avrebbe dovuto decretare il fallimento del cronoprogramma del Comune, prolungando fino a gennaio il cantiere aperto il 4 ottobre e mettendo così in grave crisi i negozi ancora superstiti in corso Garibaldi. È andata in modo ben diverso. Le piogge sono state decisamente più abbondanti del previsto, eppure il Porfido è già al suo posto nella prima parte del cantiere, da via Milazzo a via Goito, mentre il cantiere è già aperto nel secondo tratto, da via Goito a Villa Glory. L'impresa Sangalli con i suoi mezzi non si è fermata per niente, ha tolto l'asfalto e ha collocato la pavimentazione di pregio, mentre i passanti si sono rassegnati a spostarsi a piedi, al massimo conducendo a mano le biciclette, mentre la sosta gratuita del parcheggio di Villa Glory veniva estesa da mezz'ora a un'ora. Non c'è molto da esultare, tranne che per la qualità della pavimentazione di pregio, che dovrebbe porre fine ai lunghi anni di crisi del Corso. L'obiettivo di migliorare l'andamento del commercio in centro storico resta lontano. Anzi, poche centinaia di metri più avanti, in Galleria del Corso, è sparito il cartello che annunciava l'apertura di un nuovo negozio, una rivendita di legnami per gli uteria, sostituito dall'annuncio dell'immobiliarista che affitta i locali. Proprio gli affitti elevati sono il problema principale di Corso Garibaldi, visti i prezzi oltre i 2.000 euro. infatti l'amministrazione ha promesso di incontrare i proprietari. Il turno vero e rapido. In Corso Campi apre un nuovo negozio di abbigliamento all'angolo di Via Risi. In Corso Garibaldi la serie di sedi vuote intanto rimane desolante, mentre il cartello del Comune, che avvisa che i negozi sopravvissuti sono raggiungibili, ha un aspetto involontariamente amaro.